ecco inizia oggi il quinto camino di lodi alle torri siamo già arrivati a punta sincudene qui è l'antica cava un gruppo molto variegato che va da tonara fino a senis oristano baulado ecco qua il gruppo si sta accingendo siamo una quindicina e adesso siamo proprio su questa cava di smessa qui davvero si è costruito san vero tanti altri paesi attraverso questi mattoni questa è una delle cave prego allora di fronte a noi abbiamo tutta la marina di sarena squadra poi più lungomare di puzuidu e in fondo abbiamo la marina di mandriola e vedete la torre la in fondo torre samora è stato oggetto del nostro primo camino di lodi alle torri anche di quest'anno il faro sta ancora funzionando ecco questa è tutta la marina san verese una parte noi siamo qui adesso si chiama appunto a sincudina perché è proprio a forma di incudine da qui chiaramente noi siamo sopra non si vede bisogna andare bisogna mettersi lontani per vedere questa punta ma ce l'abbiamo nelle nostre cartoline eccola qua la punta sincudina qui sostiamo adesso per un momento di preghiera ecco 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 la la punta dell'incudine è questa qui non avvicinatevi troppo perché sotto è vuoto e quindi è la punta estrema san vero a 27 chilometri di mare e qui siamo proprio alla fine perché da qui in poi inizia poi riola la marina di riola che non ha spiagge questo si parte da qui e poi arriva fino ai sarenas sono 27 chilometri noi appunto faremo tutte queste falesie camminiamo lì sopra adesso